Il Consiglio di Giustizia Amministrativa acquisirà la documentazione sulla recente modifica della norma relativa allo scioglimento dei consigli comunali. La sezione consultiva del CGA ha emesso un'ordinanza interlocutoria con cui ha chiesto all'ufficio legale dell'ARS tutta la documentazione che servirà ad esprimere il parere richiesto dal Presidente della Regione Siciliana sul caso Siracusa. La vicenda è legata appunto al ricorso straordinario presentato al Governatore Musumeci per lo scioglimento del Consiglio Comunale Retuseo avvenuto nel febbraio dello scorso anno. Il CGA ha deciso di non decidere e la cosa mi sorprende perché l'estensore, cioè colui il quale ha fatto la relazione che è stato poi approvato da parte del Presidente dell'altro componente, è l'ex Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Erdizzone. Questo su nomina del Presidente Musumeci vorrei ricordarlo. In pratica il Presidente Emerito dell'Assemblea Regionale Siciliana ha pensato che la decisione che il CGA deve prendere è una decisione che si baserà non sulla legge esistente, che non prevede assolutamente lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma su quello che è stato il dibattito in Aula, come se il dibattito in Aula, gli interventi dei deputati, alcuni addirittura inappropriati durante quella discussione, potessero rappresentare una base giuridica per emanare una sentenza su questo argomento così importante. Quindi una decisione sicuramente originale che io non condivido assolutamente, anche perché la legge siciliana è chiarissima e non prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ancora una volta ribadisco che la regione siciliana ha norma dello statuto della regione, nonché della Costituzione italiana, ha potere esclusivo e concorrenti nei confronti dello Stato per quanto riguarda gli enti locali, per cui non occorreva assolutamente applicare in Ità, in Sicilia, le norme che invece sono valide in tutto il resto del Paese. Grazie a tutti.